Chi attendeva con ansia il 13 novembre, data fissata per l'udienza preliminare che avrebbe dovuto decidere su richieste di rinvia a giudizio riguardanti a vario titolo il consigliere regionale Filippo Caracciolo insieme a Giuseppe Crudele, Pasquale Corcella, Katia Scelsi, Giuseppe Bailon e Matteo Rosso è rimasto deluso. Il giudice delle indagini preliminari Angela Schiralli ha infatti rinviato la decisione al 4 dicembre. Verrebbe da pensare che anche nel Tribunale di Trani si vuole attendere l'esito delle primarie del PD. La vicenda è quella delle richieste dei biglietti per i concerti di Renato Zero e di un presunto episodio di voto di scambio. L'unica novità è che i legali di Caracciolo hanno chiesto che sia comunque giudicato con il ritabbreviato, ritenendo evidentemente che il consigliere regionale possa essere già assolto sulla base degli atti su cui la Procura ha formulato la richiesta di rinvia a giudizio. Nel frattempo altri processi, questa volta politici, attendono Caracciolo ed altri esponenti del PD di Barletta. Sabato l'Assemblea provinciale si pronuncerà sulla richiesta di commissariamento del Circolo della Città, mentre lunedì la Commissione di Garanzia dovrà decidere se espellere o meno gli otto consiglieri comunali, tra cui lo stesso Caracciolo, che con le proprie dimissioni hanno determinato lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale. Logica vorrebbe che la discussione sul commissariamento fosse successiva a quella sull'espulsione. Se infatti gli otto consiglieri dovessero restare nel PD, non si capisce perché il Circolo di Barletta dovrebbe essere commissariato. Ci sembra un fatto elementare, ma per Presidente e Segretario provinciale Lorenzo Marchio e Andrea Patruno, anche cogliere ciò che è politicamente elementare diventa una montagna insormontabile. Il segretario cittadino Chiariello si è comunque dimostrato inadeguato, si giustificano severi. In pratica si vuol far credere che lo scioglimento del Consiglio Comunale di Barletta, che è figlio di una guerra tra bande interna al PD che dura da sei anni e mezzo, ricade su un giovane segretario eletto appena sei mesi fa. Barzellette, raccontate da chi come Patruno dovrebbe essere il primo a dimettersi. Lui sì che si è dimostrato assolutamente inadeguato al ruolo, come dimostrano la disastrosa vicenda del simbolo scippato afferrante a Trani e l'incapacità di risolvere o almeno attenuare i conflitti interni al PD di Barletta che hanno portato allo scioglimento del Consiglio e alla caduta di Maffei. Naturalmente le decisioni del PD condizioneranno pesantemente il futuro del centrosinistra. Se gli otto non verranno espulsi, facile prevedere la ricostituzione della vecchia coalizione con l'esclusione della federazione della sinistra. Qualora invece dovessero essere espulsi, il centrosinistra si spaccherebbe in due. Alcune forze si alleerebbero con ciò che resta del PD, altre con gli espulsi che presumibilmente andrebbero a formare una lista indipendente con un nome di fantasia. Quello adeguato potrebbe essere movimento politico all'arrembaggio.